segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vanno massini buonasera dunque anno 1914 c'è un bambino un bambino che nel salotto di casa viene ripreso da sua mamma perché perché quel bambino si è messo a gridare in casa che la serbia deve morire che un calcio agli inglesi uno sparo ai francesi e un calcio ai russi e la mamma lo ferma e gli dice ma cosa stai dicendo il bambino ha 9 anni guarda la mamma e non le sa rispondere perché perché non lo sa che cosa sta dicendo semplicemente quella frase sulla serbia che deve morire sugli inglesi che vanno presi a calci e così francesi e così russi beh quella frase il bambino l'ha sentita per strada dove tutti quanti la stanno ripetendo nel 1914 in austria e quella frase gli è entrata in testa e dalla testa è andata semplicemente alle labbra e lui la dice quel bambino cresciuto diventerà uno dei più grandi intellettuali scrittori della nostra epoca sto parlando di elias canetti che prenderà anche il premio nobel e canetti diventato uno scrittore importante scrive un testo fondamentale intitolato massa e potere in cui va proprio a cercare il senso di quell'esperienza che da bambino lo aveva così toccato cioè trovarsi in bocca delle parole che lui continuava a dire senza saperne il significato e ricostruisce canetti una storia bellissima cioè che in certi popoli antichi esisteva il culto di una specie di esercito dei morti si pensava che esistessero delle vere e proprie delle vere proprie schiere dei battaglioni di morti che combattevano continuamente sulla nostra testa ecco questi morti per esempio nella cultura antica celtica scozzese avevano un nome e avevano soprattutto un grido di battaglia cioè urlavano sotto alle nuvole chiamandosi e diciamo aizzando il combattimento nell'antica lingua appunto dei celti scozzesi si chiamavano slow grime e questa è l'etimologia della parola slogan la parola slogan viene da qua è l'inno di battaglia dell'esercito dei morti e a questo punto egli ascanetti da una definizione bellissima dice lo slogan che cos'è lo slogan che sta alla nostra epoca come l'atomo sta alla materia da quando la politica è diventata un marketing e ha preso lo slogan che del marketing è il mantra bello slogan dovremmo ricordarci altro non è che l'inno di battaglia dei morti non una parola viva che diventa ragionamento che diventa discussione che mette le radici e che fa parlare ma qualcosa che semplicemente a macchinetta ti trovi sulle labbra e in modo non vivo ma morto blatteri bravo